Oggi vado a mangiare da st'amichetto mio, regà. Questo è il posto. Eccoci. Si chiama Zero Nodi. Gli sono venuto finalmente qui. Che ne pensi? Oggi ti faccio mangiare a base. Oggi carta bianca, mi metto seduto. Carta bianca. E voglio solo godere. Mangi tutto quello che vuoi, ci penso io. Oggi facciamo tutto a sorpresa, andiamo, regà. Andiamo, andiamo. Ci siamo accomodati, ragazzi. Allora, oggi facciamo tutto a base. A base napoletana. Tutto from and made in Napoli. Avete capito, regà? Partiamo con un antipastino, una bella frittatina, salsicce e friarelli, una frittatina classica e poi ci penso io a te. Daie, daie. La montanara classica con pomodoro, mozzarella, parmigiano e fogliolina di basilico. Questa è una montanara alla genovese. Qui abbiamo una frittatina, salsicce e friarelli e una sfrittatina classica con besciamella e pisciano. Ah, frate, così mi fanno... Mi becco di. Buon appetito, ragazzi. Oggi è tutto a Napoli d'anno. Quanto amo la montanara, ragazzi. Questo è un bel antipastino. E la Bermudana non si batte. Questa, ragazzi, è una montanara alla genovese che io mi fa un pazzia la pasta da genovese. Guarda com'è fatta benissimo. E' buonissima. Poco con la cipolla e la carne sopra. Questa è la prima volta che la provo. Ve l'ho provata qui. E' da paura. Questa è da dieci, raga. Questa, ragazzi, è salsiccia e friarelli. Ora la spacchiamo. Chi è, raga? Guardate che spettacolarità. Guardate com'è fatta bene. Guardate che buona, proprio. Buona, buona, buona. Allora, raga. Assaggiamo questa salsiccia e friarelli. E che vuoi di caffè, raga? Che sapori. Mamma mia, proprio quanto amo con la pasta dentro. Questa è la classica. Poi la becciamela e piselli. Mamma mia. S'antipasto è da sballo. Questa spiglie. Allora, prima per me era la genovese. Poi i salsiccia e friarelli, poi questa qua, poi la montanara. Ma comunque, tutti allo stesso livello perché sono troppo buone. Cosa abbiamo qui? E manno di storica tono alla genovese. Guardate che spettacolo, raga, la genovese. Guardate che spettacolo. Ci ho fatto due porzioni di assaggino, mi credo poco perché lui è pieno. Le ho chiesto a poca perché ragazzi sono pieno. Qua c'è pure una pizza. Guardate che... Guardate che spettacolo. Buona, buona. Allora, al genovese è tanta roba, raga. Allora, raga, abbiamo chiesto un assaggino da al genovese. A me fa un pazzì. È proprio buono, raga. Questa cipolla, questa carne è spettacolare. È un piatto che adoro. È un piatto che mi fa buono, un pazzì. Poi la fanno proprio bene, raga. La fanno benissimo. Non so quanti voi mi piace al genovese, anche a chi non è napoletano. Mamma mia, che godiglia. Questo si è abitato a Napoli. Eh, ma questi sono bravi a cucinare, raga. Sono bravissimi. Quando veramente... Cucinano da Dio. Qua, raga, fanno le pizze. Guardate che bel forno. Tutte pizze napoletane, raga. Andrò fuori. E c'è? Ti faccio vedere bene. Che mi fai vedere? Guardate che bella ciala, raga. Guardate che saletta, guardate che spettacolo, raga. Guardate che è fresca qua, u. Eh? Guardate che elegante, proprio. E cosa abbiamo qua? Un fantastico panozzo, salsiccia e fiarielli. Mazza, che spettacolare, fratello. Che spettacolo. È fenomeno, a favore. Guardate che bel panozzo, raga. Salsiccia e fiarielli. Bello. Sì, raga. Guardate che bellezza. Capolavoro. Guardate che bella fiarielli, oh. Salsiccia sotto, qua, provola sarà. Allora, assaggiamo. Buonissimo. Fettura perfetta. E i fiarielli sono buonissimi. La tazziccia pure è un pochino piccante. Perfetto, il panozzo da dieci. Oggi ho proprio gotuto. In questo posto, ragazzi, è mangiato a Dio. Venite, cioè, perché veramente merita. Poi, amico mio, la cameriera è simpaticissima. Mi fa abbassare dare di sale. Cioè, guardate quanto fila, raga. Mamma mia, guarda che spettacolo, va. Era tanto che non mangiavo il panozzo, raga. Chiudi in bellezza, ma davvero, eh. Con questo, ragazzi. Con questo ti fai male. Con questo, chiudi. Il vero, babà. Grazie, provate lui. Ma figura, è un piacere. Guarda che spettacolo, ragazzi. Guarda che spettacolo. È più bello che te lo mangi, eh. Regà, eccolo qua, assaggiamo, wow. Questo sì che è un vero babà, regà. Venite da Napoli. Con tutto sto room, oggi è il secondo lo dà che mangio. Mi sono ubriagato. Comunque, regà, è da paura. Abbiamo concluso in bellezza oggi. Una mangiata da dieci. Dieci e lode. Fratello mio, grazie per la bellissima mangiata che ho fatto oggi. È stato veramente un grande piacere venire qui. È stato un piacere più per me che per te. Servirti e farti stare bene. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Regà, venite qui perché veramente, oltre a cucina napoletana, il pesce, la pizza, e poi il salcamere che oltre a essere bello, è anche super simpaticissimo, e ho mangiato veramente da dieci e lode, fratello, dieci e il peservizio dieci. Regà, zero nodi. Dai, voto dieci.